Le fiere di Vallo in concessione per vent'anni, la giunta comunale guidata dal sindaco Aloia ha deliberato di riattivare la procedura per la valorizzazione dell'imponente complesso di Pattano, costituito da quattro capannoni espositivi, un ufficio, un ristorante, servizi igienici, spazi verdi, strade e parcheggi per una superficie di circa 40.000 metri quadri. La proposta è di affidare in concessione la gestione del centro espositivo mediante la procedura ristretta e la giudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'obiettivo di concretizzare il più ampio progetto di valorizzazione dell'intero territorio del Cilento per cui il complesso era nato. L'utilizzo della struttura da parte del concessionario infatti dovrà inserirsi, secondo quanto stabilito all'amministrazione, in questo discorso di promozione mediante la realizzazione di iniziative di interesse socio-economico-culturale. Già nel 2014 il Comune aveva avviato la procedura per dare in concessione le fiere, ma tutto si era poi concluso con l'annullamento dell'aggiudicazione avvenuta nei confronti dell'unico soggetto che vi aveva manifestato interesse e da allora il centro era stato utilizzato per sporadiche iniziative. Oggi l'amministrazione comunale ci ritenta, nonostante sul punto sia parsanetta la posizione del gruppo PD che siede in minoranza. Bisognava fare un accordo di programmazione territoriale, ha detto Nicola Botti. Le fiere sono nate ospitando eventi di caratura internazionale e poi sono diventate un deposito. Questa amministrazione ha riscisso dieci anni fa il contratto con il consorzio artigiani Vallo che promuoveva quelle manifestazioni. Ha tentato di affidare la struttura e non ci è riuscita. Ora, dopo tutto questo tempo in cui c'è stata assenza di investimenti e di accordi di valorizzazione, come dimostra la situazione delle fiere ma anche quella del Parco della Musica, del Teatro dei Berardinis e del Parco Stella del Mattino, ha concluso Botti, trovo scorretto e poco opportuno avviare questo progetto a pochi mesi dalle elezioni invece di dare la possibilità alle amministrazioni future, comunali e regionali, qualunque dovessero essere, di capire come gestire quelle strutture. L'amministrazione di Vallo però punta a mettere in campo il progetto di valorizzazione delle fiere più volte annunciato, contando questa volta su un concessionario disposto anche in partenariato con il Comune a rendere il complesso un volano per l'intero territorio, come era nelle intenzioni che portarono alla sua realizzazione.